Buongiorno FTI Online, tentativo di rimbalzo questa mattina per la borsa, Fuzzimib in questo momento in guadagno del 2,5% circa, siamo tornati in area 22.180, questo è il future, vedete come le quotazioni stamattina sono riuscite a superare il lato alto del canale decrescente che parte dai massimi del 20 febbraio, segnale positivo ma ancora non risolutivo, nel senso che guardando i ritracciamenti ci si accorge che siamo arrivati per adesso solo sul primo, quindi il 23.6% di quelli calcolati per il ribasso dai massimi di febbraio, senza il superamento almeno del 50% di tracement che nel caso del future passa intorno ai 23.250 punti, il rimbalzo di oggi sarà da considerare come un elemento correttivo, del resto a sostenere le borse sono le voci di interventi concertati da parte delle banche centrali, in particolare della Fed che potrebbe arrivare a tagliare i tassi di interesse già di addirittura di mezzo punto percentuale nel corso delle prossime giornate, il dollaro su queste aspettative si era notevolmente indebolito nei confronti dell'Euro, qui è il grafico in 3D dell'ultimo trimestre, però vedete che già nelle ultime ore questa tendenza è andata scevando con il cambio Euro-Dollaro che è tornato intorno all'area 1.11.10 dopo aver toccato ieri un massimo a 1.11.80-85. Le aspettative di taglio dei tassi ci sono, la Banca Centrale Australiana ha già intervenuto in questo senso, adesso ci sono attese che sia la Banca Canadese ma anche come abbiamo detto la Fed possano fare lo stesso, sul nostro sito ftonline.com ho pubblicato poco fa un editoriale che esamina la possibilità di intervento da parte delle banche centrali, sollevando tutta una serie di problematiche che potrebbero rendere relativamente poco significativo questa tipologia di intervento, in particolare ci sono due aspetti da tenere sotto controllo, il primo è l'enorme di corporate bond che c'è in giro per il mondo, molti con una valutazione di rischiosità elevata, quindi siamo per molti di questi corporate bond al di sopra solo di un gradino del livello junk e il rallentamento dell'economia potrebbe comportare quindi una crisi a livello finanziario nel caso questi debiti dovessero incontrare problemi nell'essere ripagati, c'è anche da considerare che ci sono alcune banche centrali come ad esempio quella europea ma anche quella giapponese che hanno già a che fare con i tassi di interesse negativi e quindi ovviamente lo spazio per un intervento diventa veramente molto ridotto e non è detto che ci sia un transfer necessariamente positivo sull'economia reale, c'è da considerare infatti che mentre nella crisi finanziaria del 2007-2008 il taglio dei tassi aveva avuto un effetto significativo proprio perché la crisi era di tipo finanziario, in questo caso siamo di fronte a una crisi economica e non è che un taglio dei tassi possa riportare gli operai nelle fabbriche che sono chiuse per via dell'epidemia o addirittura anche i turisti nuovamente verso le loro mete, c'è stato un calo del turismo impressionante nel corso degli ultimi giorni che ha ripercussioni sia su tutta la filiera del turismo che anche ovviamente su quella dei trasporti e difficilmente cambiamenti a livello di politica monetaria potranno avere un effetto significativo su questi fattori. Su cosa ci concentriamo oggi? Sull'analisi dei maggiori 4 titoli del mercato italiano che sono intesa Unicredit, Enel e Eni, nel corso della seduta di ieri questi 4 titoli da soli hanno scambiato il 50% circa, scusatemi, il 43% circa, 44% del totale degli scambi dei maggiori 50 titoli di piazza affari, quindi sono un campione decisamente rappresentativo di quelle che sono le prospettive del mercato. In quest'altra colonna ho evidenziato le variazioni da inizio anno di tutto il Fuzzimibe, vedete a parte alcuni casi particolari ci sono alcuni titoli difensivi come Terna e Enel che conservano una performance positiva, Ubibanca, sappiamo che c'è un discorso dietro che va al di là dell'andamento del mercato, Nexi che è stata la migliore performance da inizio anno, ma a parte questa sparuta rappresentanza di titoli positivi da Amplifon in giù fino a Ferragamo sono tutti segni negativi per quello che riguarda la performance da inizio anno dei singoli titoli, nel caso di Ferragamo addirittura siamo sotto del 26% ma già a partire da metà della lista in poi siamo con delle perdite che vanno oltre il 10%. Come dicevo quindi guardiamo quelle che sono le prospettive per i 4 maggiori titoli del mercato domestico, due banche intese a Unicredit, l'energia e i servizi rappresentati da Eni e Enel. Iniziamo col dire che la situazione grafica di intesa non è così grave, se andiamo a calcolare i ritracciamenti dai minimi dello scorso mese di giugno infatti ci accorgiamo che per adesso il ribasso si è fermato sul 61,8% di ritracciamento, sapete che questa percentuale che viene ricavata dalla successione di Fiumanacci è molto importante, di solito per convenzione si dice che fino a che il 50%, il 61,8% vengono rispettati, la fase che si sta sviluppando è solo una correzione del movimento precedente, quindi il violento ribasso che c'è stato al massimo del 18 febbraio per adesso può essere considerato solo una pausa del trend che si è sviluppato dai minimi dello scorso giugno. Certo che a questo punto il titolo dovrà dare prova di se stesso per permettere di considerare il rimbalzo a sua volta qualcosa di più che una semplice correzione tecnica, perché se è vero che il ribasso ha ritracciato solo il 61,8% mantenendosi nell'ambito di una correzione, è anche vero che se il rimbalzo si limiterà al 61,8%, quindi se dovesse fermarsi nel 240-242, anche esso verrà considerato solo una correzione, quindi fino a che saremo al di sotto di quei livelli c'è il rischio che poi si riprenda nuovamente a scendere, questo è il motivo per cui al di là di quelle che sono le considerazioni che si possono fare per il breve termine, al momento forse non è opportuno sbilanciarsi in operazione d'acquisto, direi che se dovessimo salire al di sopra di area 2,28-2,29 magari si potrebbe provare a comprare qualcosa di breve per il target a 2,35-2,40, in caso contrario per chi avesse il titolo in mano probabilmente il rimbalzo al di là di queste operazioni di breve o brevissimo termine sarebbe un'occasione per alleggerire le posizioni, sopra 2,42 invece si potrebbe puntare alla ricopertura del grep ribassista del 24 febbraio, ma in ogni caso si potrebbe iniziare a immaginare un allentamento del quadro ribassista con i prezzi che a quel punto avrebbero la possibilità di poter riprendere la tendenza crescente lungo termine, che sopra la 2,55-2,60 avrebbe almeno un altro mezzo Euro di spazio per evolvere, quindi in quel caso tornerebbe d'autualità il target di 3 Euro. Per il momento però ripeto, lo scenario che potrebbe dimostrarsi il più corretto è quello che il titolo stia semplicemente rimbalzando dopo la veloce discesa degli ultimi giorni per poi riprendere nuovamente a scendere. Nel caso di Unicredit, anche nel caso di Unicredit siamo arrivati sul 61,8% di ritracciamento, nella seduta di ieri i prezzi sono scesi in chiusura anche leggermente al di sotto di questo supporto, oggi però sono tornati al di sopra, il supporto vale esattamente 11,12, in questo momento siamo a 11,35, anche qui vale lo stesso esatto, lo stesso identico ragionamento che abbiamo fatto per intesa, fino a che rimarremo al di sotto di 12,50, 12,60, la reazione sarà da guardare con molta diffidenza, perché potrebbe sì a quel punto oltre 12,60 anche riportarci verso i massimi di area 14,50, ma più probabilmente il movimento al quale stiamo assistendo è solo un elemento intermedio di una correzione più complessa che rischia poi di evolvere nuovamente al ribasso. Attenzione quindi a come si gestisce questa fase, nel breve termine nulla vieta che oltre l'area 12 si possa anche pensare agli acquisti, ma solo in una logica di breve termine. Leggermente migliore è la situazione di Enel, del resto abbiamo visto come i titoli della pubblica utilità, sia tra quelli che da inizio anno hanno performato meglio, su Enel c'è ancora intatta la linea di tendenza che parte dai minimi di fine del 2018, anche le medie mobili più significative per il medio termine, come ad esempio la 100 e la 200 giorni, questa è la 100 esponenziale, sono state messe sotto pressione, la 100 è stata toccata dai minimi di ieri, la 200 è ovviamente più bassa e più o meno coincide con la linea di tendenza, però il fatto che abbiano per adesso ottenuto questi riferimenti grafici è ovviamente importante, perché vuole dire che è lecito considerare la flessione delle ultime giornate come un elemento puramente correttivo, vedete il minimo di ieri oltre a toccare, aver toccato la media mobili esponenziale a 100 giorni e anche sul 61,8% di rifacciamento del rialzo dai minimi di inizio dicembre, quindi su Enel il rialzo di oggi potrebbe anche avere un seguito, siamo a 7,80 Euro, se i prezzi dovessero riuscire a salire oltre area 7,85, 7,86, quindi dove siamo già questa mattina con le quotazioni e confermare la rottura di quei livelli in chiusura e seduta, una speranza di vedere ricoperto questo gap, quindi di vedere i prezzi che tornano almeno fino in area 8,37, 8,40 potrebbe anche maturare, attenzione ovviamente che se area 7,85, 7,90 non venisse superata in chiusura e seduta, anche qui ci sarebbe un rischio elevato di avere una nuova fase calante, almeno sulla linea di tendenza, quindi fin in area 7,10. Il titolo più pesante di quelli che stiamo guardando è Eni, ovviamente il prezzo del greggio è andato incontro ad un forte ridimensionamento nel corso delle ultime settimane proprio a causa del timore che ci sia un brusco rallentamento a livello globale, i presupposti per un ribasso si erano già venuti a verificare a partire dalla fine del mese di gennaio con la violazione della base di questa figura di forma triangolare, siamo arrivati con i minimi di ieri molto vicini a quelli che erano i minimi di inizio 2016, vedete i prezzi hanno toccato questo supporto, vi faccio vedere sul grafico elementi settimanali dove si riconosce meglio il test, il minimo del febbraio 2016 era 10,93 Euro, ieri i prezzi hanno toccato un minimo a 10,90 Euro, 10,91 Euro e questa mattina ritroviamo a 11,27 Euro, quindi il test e il supporto per il momento ha contenuto il ribasso, il titolo è in evidente situazione di ipervenduto, quindi un rimbalzo ci può anche essere, si dovrebbe riunire a breve l'OPEC per decidere su un eventuale taglio della produzione, si parlava fino a pochi giorni fa di un taglio di mezzo milione di barili, con la Russia che era abbastanza incerta sull'approvare questa misura, adesso sembra che anche la Russia, visto gli recenti sviluppi sull'andamento della domanda, sia d'accordo nell'intervenire in questo senso, addirittura ci sono voci che parlano di una riduzione della produzione anche maggiore e quindi il comparto oil potrebbe andare effettivamente incontro ad un rimbalzo, attenzione se si vuole provare a sfruttare questo rimbalzo, a posizionare uno stop subito sotto 10,90 Euro, perché se il titolo dovesse perdere anche quel supporto ci sarebbe il rischio di un'ulteriore ampia accelerazione ribassista. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.